. Bossari e Filippa matrimonio invitati, ecco chi ci sarà del grande fratello Vip. Quando si sposano Daniele Bossari e Filippa Lagerbac? Tra gli invitati al matrimonio anche i concorrenti del grande fratello Vip. Fervono i preparativi per il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerbac. Una data ancora manca ma sarà entro la primavera, molto probabilmente a maggio. A farlo sapere lo stesso vincitore dellultima edizione del grande fratello Vip. In un'intervista concessa al settimanale Eva Tremila, il conduttore ha rivelato che i preparativi sono un corso e che si sta vagliando la location giusta. Nel frattempo Bossari sta già pensando alla lista degli invitati che sarà piuttosto lunga visto che i promessi sposi sono intenzionati ad avere una festa grande e movimentata. . Ci saranno anche altri defini? Assolutamente sì. . Bossari vuole invitare al suo matrimonio tutti i concorrenti del grande fratello Vip. . Penso di estendere l'invito a tutti. . Sono legato in modi differenti con ciascuna delle persone con cui ho condiviso il mio percorso nella casa. . Sono tutti partecipi di questo passo che io e Filippa ci apprestiamo a fare ha dichiarato Daniele Bossari. . Dunque da Lorenzo Flaerti a Luca Onestini, passando per Cecilia e Ignazio, Raffaello Tonone e tutti gli altri concorrenti, nessuno mancherà al matrimonio dell'anno. . . Ci sarà pure Giulia Dell'Ellis, che al grande fratello Vip ha avuto un rapporto d'amore e odio con il vincitore del reality show. . . . . . . . . .